Ciao a tutti. Questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda tutte le persone che mi scriveranno delle mail private per un consulto privato. Ad ogni consulto su richiesta e ripeto su richiesta se voi mi scriverete il vostro giorno di nascita e volete avere delle informazioni in più sul vostro giorno di nascita per quanto riguarda l'assonanza con i tarocchi, un consiglio, un pensiero del giorno. Insieme a questo libro io riuscirò, vedete qua c'è il giorno e il mese, riuscirò a darvi delle informazioni in più sulla vostra persona. Questo è un qualcosa in più che voglio regalare a tutte le persone che mi chiederanno un consulto privato e, come dicevo prima, mi diranno specificatamente che vogliono sapere qualcosa in più sul loro giorno di nascita. Bene, questo era un piccolo video di presentazione e adesso vi lascio al video del giorno. Ciao a tutti, piccola comunicazione di servizio. Prima che inizi il video di oggi, volevo semplicemente comunicare che da questo momento in poi i numeri da poter giocare per adesso al 10 e l'8 e poi quando si riprenderà all'8 verranno semplicemente dati a chi ne farà richiesta tramite indirizzo di posta elettronica. Mi descriverete che tipo di numeri volete per quale gioco e quanti ne volete e a chi fosse interessato li darò semplicemente a chi mi scriverà una e-mail per avere questo servizio. Io vi ringrazio e vi lascio al video. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Morgana e questo è il mio canale di cartomanzia. Ringrazio tutte le persone che si sono iscritte al mio canale. Stiamo diventando veramente tanti e io non mi sarei mai aspettata un riscontro così favorevole in un'esperienza del genere. Ecco, chiamiamola così. Oggi andremo a fare un interattivo che mi è stato richiesto da una ragazza, da una di voi. L'interattivo era per i single. Allora, il titolo del video di oggi sarà Per i single quali novità ci sono? Indubbiamente quando si parla di single già abbiamo un argomento ben definito che sono i sentimenti e l'amore. Per questo andremo a fare una metodologia un po' particolare che proprio racchiude il sentimento in sé. Cosa volevo dire? Volevo ricordare, io lo ricordo ogni volta, che i miei video sono degli interattivi. Perciò sono delle stese generali, non sono delle stese personali. Questo lo dico perché tante volte nei commenti o nelle mail private mi viene chiesto Ah, per me allora è così e per me allora è in questo modo. Io non posso rispondere singolarmente per ognuno di voi. Siete voi che in base alla variante che andrete a scegliere Allora potrete stabilire se quello che io dico veramente risuona nella vostra vita oppure è semplicemente un qualcosa che a voi non appartiene e allora o cambiate variante oppure chiudete il video completamente. Non tutte le persone possono risuonare le varianti o i video appunto perché sono degli interattivi. Sono sempre validi in qualsiasi momento voi li andate a vedere. Non hanno una data prestabilita, un periodo prestabilito. Quello che volevo è perché ogni tanto mi arriva qualche commento oppure qualche mail alquanto sgradita. Dico io ma io non ho problemi, io rimuovo e blocco l'utente completamente. Comunque cosa volevo dire per chi volesse contattarmi l'email è scritta nelle info e ogni tanto apparirà in sovraimpressione. Ho dimenticato di prendere i segna varianti che vado a prendere immediatamente. Benissimo, queste sono le tre varianti per il video di oggi dedicato ai single alle novità per i single. Abbiamo la prima variante la pietra rossa, la seconda variante la pietra azzurra, la terza variante la pietra rosa. Adesso andiamo a fare subito la variante per... cioè andiamo a stendere le carte per la prima variante, cioè la variante con la pietra rossa. Andiamo a spostare le altre due che per adesso non ci riguardano e questa la mettiamo qui, dove poi andremo a posizionare vicino le energie. Per quanto riguarda le energie abbiamo questi quattro mazzi di carte. Per la variante vera e propria abbiamo sempre le normande e approfondiamo con i tarocchi. Allora, innanzitutto andiamo a vedere che energie ci danno gli oracoli per questa prima variante, per questi single che magari vogliono sapere se c'è qualche novità. Ricordo che io mi rivolgo sempre al femminile perché sono io che sto facendo le carte e perciò diciamo la vostra rappresentazione è fatta dalla figura femminile. Per quanto riguarda i maschietti dovete voltare tutto al contrario. Adesso andiamo a vedere che energie ci danno questi oracoli meravigliosi. Vediamo un po'. Il pensatore Perciò il pensatore ci porta a una carta di riflessione a una carta di riflessione che in un certo senso dobbiamo essere più dobbiamo riflettere di più ecco, dobbiamo essere più analitici dobbiamo essere meno per quanto è possibile meno impulsivi ci dice la carta. Dobbiamo riflettere di più o se conosciamo altre persone o in base alle situazioni che abbiamo perché magari sì, noi ci riteniamo single però magari stiamo frequentando una persona di cui ancora non c'è niente di veramente importante. Due da autunno Porta il divertimento in tutto ciò che fai ti destreggi tra molteplici priorità e impegni di lavoro hai un talento eccezionale per occuparti di più progetti alla volta perciò questo significa che noi siamo dei pensatori e abbiamo a che fare con tante cose nello stesso momento questo che significa che siamo delle persone molto attive che siamo delle persone molto diciamo in movimento ecco, chiamiamola così prendiamo adesso dato che è una stesa per i single ed è una stesa che riguarda prevalentemente i sentimenti andiamo a vedere cosa ci dicono gli angeli del cuore oh, è venuta fuori questa da sola vediamo conversazioni sincere esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti perciò diciamo che questa potrebbe essere una carta di apertura una carta di apertura o verso magari una persona che abbiamo conosciuto da poco o verso una persona che diciamo stiamo conoscendo andiamo a vedere l'energia di quest'ultimo mazzo di carte che sono i talismani del successo vediamo affare affare potrebbe essere anche non inteso come non un affare inteso come affare diciamo economico ma un affare inteso come un qualcosa che va in porto un qualcosa che trova diciamo la sua fine che trova la completezza nel nell'essere poi una coppia adesso andiamo con le nostre meravigliose carte andiamo a vedere per i single della prima variante se ci saranno delle novità adesso andiamo a vedere il taglio e poi io estrarrò le due carte importanti diciamo per questa variante e vi spiegherò come avverrà la stesa allora andiamo a vedere qui non abbiamo già per la prima variante non è che abbiamo delle carte diciamo che abbiamo una bella una bella circolazione per quanto riguarda i sentimenti nel senso voi siete sicuramente una persona che ha a che fare con tante conoscenze ha a che fare con tante persone magari è proprio nell'ambito del lavoro che si potrebbe conoscere qualcuno perché qui mi porta che voi siete molto aperti ai sentimenti molto aperte alle nuove conoscenze e avete una bella cerchia di conoscenze che potrebbe portarvi appunto alla conoscenza di 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 qualche persona che potrebbe essere appunto al caso vostro certo dovete essere molto riflessivi ecco conversare essere aperti farvi conoscere realmente per quello che siete e di contro dovreste riuscire a capire se la persona che avete di fronte è una persona come voi comunque la stesa viene diciamo esposta in questo modo noi andiamo a prendere voi che siete la consultante in questo caso è la dama perché sono io che sto facendo le carte a voi perciò voi siete rappresentati dalla dama se siete degli uomini diciamo è la stessa cosa perché il consultante o la consultante viene rappresentato da questa carta e poi andiamo a prendere l'argomento che ci interessa cioè l'amore e lo mettiamo da questa parte adesso andremo a prendere cinque carte che si interporranno fra l'amore e voi per vedere come andrà questa diciamo questo momento queste novità se ci saranno delle novità belle delle novità così così che cosa noi possiamo fare perciò andiamo di nuovo a rimescolare il mazzo rimasto e andremo a prendere le cinque carte che ci servono benissimo andiamo a vedere allora io penso proprio che allora parlando in termini molto pratici qui io non vedo che voi abbiate problemi a conoscere altre persone io non vedo proprio che voi avete dei problemi nell'essere socievoli nell'essere diciamo in contatto con persone nelle quali ci potrebbe essere la persona della vostra vita perché io penso che la persona adatta a voi voi già la conoscete voi già l'avete conosciuta perché qua mi parla il bouquet e mi esce proprio il personaggio mi esce il gentiluomo diciamo che siete voi che avete dei dubbi avete dei dubbi proprio sulla sulla situazione per quanto riguarda conoscere una persona nuova conoscere una persona che possa stare al vostro fianco siete voi che distruggete la possibilità a questo uomo di fare un un passo nei vostri confronti adesso andiamo a vedere eh mamma mia no 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 allora alle ragazze della prima variante io dico cercate sì di riflettere cercate sì di essere analitiche però date spazio anche alle persone che conoscete di fare un passo nei vostri confronti allora il il punto perché voi non riuscite a trovare la persona che può fare al caso vostro siete proprio voi perché qui avete tutte le carte in regola guardate amore bouquet gentiluomo anello unione più di questo unione salda duratura forte io non cioè l'unione che avete sempre sognato che avete sempre desiderato tutte le conoscenze tutte le amicizie che avete siete però voi che distruggete quello che si presenta a voi e in quello che si presenta a voi sicuramente c'è la persona che fa al caso vostro io penso che voi l'avete conosciuta questa persona già voi la conoscete è nella cerchia delle vostre amicizie ma non so per quale motivo voi la tenete alla larga voi siete molto ma molto ma non semplicemente analitiche voi siete proprio distruttive per quanto riguarda questo sentimento e questa persona che invece io posso vi posso assicurare che questa persona nutre un sentimento che poche volte nelle stese mi è capitato di vedere cioè queste carte messe insieme che mi escono proprio per una stesa d'amore è difficile che vengano fuori cioè questo è veramente un sentimento guardate qua l'asso d'oro cioè l'inizio di un qualcosa di costruttivo l'inizio di un qualcosa di importante abbiamo qui cioè è come se voi ecco vedete qui vedete qui siete voi che distruggete tutto siete voi che distruggete tutto perché voi avete diciamo già voi conoscete la persona che fa per voi già è nella vostra cerchia di amicizia forse già forse lo frequentate pure in un certo senso anche se non c'è stata una vera e propria dichiarazione un vero e proprio diciamo esternare i sentimenti però voi lo conoscete però state pur certe che siete voi che state distruggendo questa questa meravigliosa unione che potrebbe essere la vostra anima gemella io vi dico di sì essere analitiche di pensare di cercare di essere costruttive però cercate anche di dare un po' di spazio a a questa persona che vuole semplicemente e con tutto il cuore sinceramente amarvi benissimo adesso andiamo a fare le carte per la seconda variante per chi ha scelto la pietra azzurra andiamo a vedere subito le energie per questa seconda variante per i single quale novità ci sono per questi single anche se come ripeto nella vita che noi facciamo oggi c'è sempre qualche persona che ci interessa più di un'altra qui abbiamo lo yang lo yang è la la carta dell'azione la carta dell'attivo la carta del 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 dare ecco in poche parole noi siamo quelli che dobbiamo avere un'azione ben precisa perché appunto lo yang significa movimento significa attività creativa e significa anche manifestazione perciò magari qui c'è qualcosa che si sta per manifestare o si è diciamo manifestata anche da poco andiamo a vedere unione prendi la decisione migliore per ragioni giuste confronta metodi tradizionali e alternativi per capire quale sia il migliore per te una comunità spirituale perciò qua significa che secondo me ci può essere la manifestazione di qualche sentimento o ci può essere oppure c'è stata da poco potrebbe anche significare adesso andiamo a vedere le altre energie quello che ci dicono sto cercando di mettere a posto il mazzo ecco qua bene adesso andiamo a vedere cosa ci dicono gli angeli del cuore vediamo se anche loro hanno una una energia positiva da manifestarci perché già le prime due ci fanno capire che ci può essere la manifestazione per un'unione di base anima gemella ma queste carte oggi hanno proprio voglia di parlare anima gemella manifestazione unione io penso che dovrebbe essere una stesa di quelle proprio fantastiche andiamo a vedere il talismano del successo cosa ci dirà perché anche in questo caso dobbiamo avere successo di nuovo affare l'affare dovrebbe essere proprio la completezza di tutto quello che andremo a dire cioè la conclusione di un affare la conclusione di un qualcosa di importante ma già qua mi sa che i single che hanno scelto la variante numero due cioè la pietra celeste già hanno qualcuno di ben definito sott'occhio e secondo me hanno già anche una mezza parolina con qualcuno secondo me andiamo a vedere ecco qui hanno una mezza parolina però c'è sempre un però qui hanno una mezza parolina però non sanno che cosa decidere ecco perché è come se ci fosse qualcosa che è stato detto ma non è stato spiegato fino in fondo e ci troviamo in una situazione di di fermo per una decisione che arriva ad un certo punto non sappiamo prendere nel senso la manifestazione che vi dicevo prima questa manifestazione tarda ad arrivare perché appunto c'è qualcosa che si è accennato però ci sentiamo in una sorta di limbo non sappiamo se quello che ci è stato detto è realmente quello che noi sentiamo cioè l'unione l'anima gemella è qualcosa che può andare a compimento e perciò ci sentiamo in una fase di indecisione andiamo a vedere cosa ci dicono le altre carte vediamo un po' allora dobbiamo prendere la consultante eccola qua e che erano pure vicini questo sta anche a significare qualche cosina se erano pure vicini allora andiamo a mescolare di nuovo andiamo a prendere le cinque carte che ci interessano e cinque vedete è uscita di nuovo la carta del taglio è uscita la carta della decisione da prendere ecco qua allora qua le carte sono molto chiare nel senso che allora in questo caso c'è stata una manifestazione del sentimento però non proprio diciamo concreta cioè in parole povere è come se voi aveste avuto un un'unione un rapporto con questa persona però poi diciamo è andato è finito là non c'è stato niente di chiaro niente di specifico niente di concreto questa situazione che si è venuta a creare vi ha portato una una sorta di indecisione nel senso è la mia anima gemella si è manifestato però si è manifestato a metà e come può essere siamo una coppia non siamo una coppia ecco perché voi in poche parole non capite se vi sentite coppia o vi sentite single perché il sentimento diciamo che vi porta a una forma di di bivio vi trovate come al centro di una di una strada e ci sono due strade una che vi porta alla chiusura di questa situazione e giustamente vi porta anche alla conoscenza di altre persone allo stare insieme ad altre persone perché la vostra vita vi porta ad avere una una comunità abbastanza ampia di frequentazione perciò voi nel vostro ambito sicuramente conoscete tante persone però questa strada vi porta a dire ma che cosa faccio continuo con questa persona oppure chiudo con questa persona e cerco ancora perché è diciamo come un dubbio come un qualcosa che non è stato chiaro cioè voi aspettate un messaggio una manifestazione come dice la carta dell'oracolo aspettate una manifestazione che vi chiarisca voi in che posizione state perché in questo momento a voi la vostra posizione vi è vi è oscura perché l'altra persona ancora non si è capito che cosa che cosa voglia da voi allora diciamo che quello che voi voi sognate diciamo la stabilità voi sognate la la saggezza la stabilità sognate una persona che sia concreta che sia matura che sappia quello che vuole in questo momento voi vi trovate come vi dicevo in alto mare vi trovate in alto mare perché non sapete neanche se dire qualcosa a questa persona per fargli capire ma insomma che cosa devo fare siamo fidanzati non siamo fidanzati siamo una coppia siamo niente siamo semplicemente amici perciò questa è una situazione un pochino chiamiamola così strana per voi ed ecco che siete entrati in confusione e ogni tanto ogni tanto vi passa anche per testa di troncare completamente di tagliare completamente i ponti con questa persona e di cercare ancora infatti voi siete in una situazione che vi trovate persa da tutte le parti e non sapete più che cosa fare non sapete proprio cosa fare vi sentite per voi questa è la persona giusta secondo voi questo è il vostro uomo ecco perché voi di fondo vi sentite in questa forma di sospensione questa forma di sospensione dalla realtà in che senso perché voi vi sentite in questo momento afflitte e vorreste scappare da questa storia però di fondo non sapete che strada prendere come hanno detto le carte prima soffrite perché giustamente voi sentite magari un sentimento per questa persona perché voi vi sentite attratta da questa persona sentite che per voi potrebbe essere l'anima gemella e perciò volete che la manifestazione che c'è stata che poi però è rimasta in aria continui continui diciamo l'andare avanti di questa unione e il rafforzamento di questa unione perché voi vedete quest'uomo come l'uomo della vostra vita io quello che vi posso consigliare di fare è di magari aspettare qualche altro po' di tempo una sua manifestazione e poi due sono le opzioni appunto il sentiero due sono le opzioni o parlate chiaro e dite senti figlio mio ma tu che intenzioni hai noi abbiamo fatto questo 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 e quest'altro siamo una coppia o non siamo una coppia o se no non dargli completamente confidenza lui si comporta in questo modo e io mi comporto di conseguenza taglio taglio completamente i ponti taglio completamente quel minimo di diciamo approccio che c'è stato e cerco altrove benissimo adesso andiamo a fare le carte per la terza variante per chi ha scelto la pietra rosa andiamo a vedere subito le energie degli oracoli che cosa ci dicono vediamo un po' la tribù perciò la tribù qua ci parla già di di aggregazione ci parla di di persone di comunità di famiglia di rapporti con persone di amicizie di conoscenze perciò sicuramente noi abbiamo una una cerchia di amicizie che ci può portare alla conoscenza di di qualche persona magari che per noi potrebbe diventare importante la ruota basta rimandare una una fortuna improvvisa o inaspettata ti attende una nuova auto un nuovo viaggio sono in arrivo perciò in questa situazione di conoscenze in questa situazione magari anche familiare perché magari non ne so abbiamo fratelli abbiamo sorelle magari conosciamo qualche nuovo amico di un nostro parente che magari ci scocca la scintilla ed è la persona che fa per noi vediamo un po' cosa ci dicono gli angeli del cuore che sono proprio le carte dei sentimenti in questo caso vediamo cosa ci dicono risolvi le questioni familiari perdoni i tuoi genitori e la tua vita amorosa di ne terra giovamento qui che cosa potrebbe significare potrebbe significare pure che noi abbiamo avuto oppure potrebbe significare anche che noi non riusciamo a trovare la persona giusta della nostra vita perché magari abbiamo delle situazioni familiari che dobbiamo andare a risolvere e perciò non siamo mentalmente ancora sereni e liberi per poter essere in grado di valutare il comportamento di chi ci sta vicino tenacia dobbiamo persistere dobbiamo persistere e non mollare nella nostra ricerca andiamo a vedere cosa ci dice la stesa in generale perché qua mi sa tanto che c'è una qualche situazione diciamo familiare che deve essere risolta deve essere chiusa ecco perché è uscita la ruota deve essere chiusa per poter noi ricominciare a vivere la nostra vita infatti infatti qua abbiamo abbiamo le nuvole abbiamo un po' di dubbi abbiamo un po' di incertezze abbiamo qualche cosa che ancora non c'è chiaro e abbiamo bisogno di cambiamento abbiamo bisogno di cambiamento abbiamo bisogno di nuove situazioni abbiamo bisogno di magari spostarci anche semplicemente emotivamente da questa situazione che si è venuta a creare nella nostra famiglia che ci porta un po' di scompiglio magari emotivo dobbiamo cercare di chiudere il prima possibile questa situazione familiare avere la tenacia la costanza di aspettare per poter risolvere questa situazione familiare e poter finalmente avere un cambiamento in positivo anche perché le nuvole più diradate sono dal lato della nave e perciò ciò significa che sicuramente il cambiamento può essere attuato tranquillamente però prima dobbiamo risolvere questa situazione in famiglia che ci porta a non avere la libertà per poter conoscere la persona giusta benissimo andiamo a prendere le cinque carte che ci porteranno dal cuore a voi buonissimo scusate eh sì 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 la situazione è proprio questa nel senso questo parlare questo diciamo quell'avere sempre qualcosa da dire in famiglia avere sempre queste discussioni nella famiglia che ci portano ad essere sempre magari un po' un po' stanchi e ad avere sempre queste preoccupazioni per quanto riguarda la famiglia queste notizie sempre di liti di incomprensioni di incompatibilità di pettegolezzi ci portano a noi a una forma di isolamento da quello che è la vita sociale questa forma di isolamento ci porta ad una a fare una scelta una scelta che riguarda la nostra vita perché noi sì è vero dobbiamo essere sempre presenti per la famiglia dobbiamo essere sempre in grado di aiutare chi ha bisogno però è anche vero che noi dobbiamo pensare un po' a noi stessi noi non è che possiamo stare sempre nell'ombra possiamo stare sempre diciamo chiuse nella nostra diciamo rinchiudere quello che è diciamo il nostro spirito la nostra voglia di fare perché noi dentro di noi vogliamo qualcosa di stabile di maturo vogliamo qualcosa che abbia radici profonde nella nostra vita vogliamo la sicurezza questo però che cosa ci porta in questo preciso momento ci porta a non poterlo attuare perché abbiamo delle situazioni familiari ognuno sa di che cosa sto parlando che ci porta però sempre con questo bivio della nostra vita a dover diciamo espletare le nostre i nostri doveri per quanto riguarda la famiglia i genitori tutto quello che sia però ci porta anche a dover chiudere in noi stessi a mantenere segreto quello che sono realmente le nostre intenzioni i nostri desideri infatti noi stiamo attraversando state attraversando un periodo molto brutto state attraversando un periodo di di sogni di idee di come vi posso dire a parte chiamarli sogni di desideri di tutto ciò che è la vostra creatività la vostra intuizione tutto tutti quelli che sono i vostri desideri nel cassetto voi purtroppo li dovete mettere da parte li dovete eliminare li dovete accantonare perché ci sono queste situazioni familiari abbastanza anche pesanti perché ci sono liti ci sono discussioni ci sono cose da dover sistemare ci sono delle situazioni abbastanza pesanti nella vostra famiglia nel vostro ambito familiare che vi portano a dover tagliare di netto quello che è la vostra il vostro desiderio la vostra realizzazione tutto ciò che voi volete realizzare sicuramente in questo momento non ci riuscite perché avete a che fare con questa situazione di famiglia e perciò state pensando addirittura di non di non avere più speranze per quanto riguarda diciamo il trovare la persona dei dei vostri sogni vediamo cosa ci dicono i tarocchi allora qui abbiamo una insoddisfazione incredibile abbiamo una forma di malinconia di insoddisfazione tutto quello che facciamo non ci piace tutto quello che noi vorremmo tutto quello che noi desideriamo attuare non si riesce a realizzare non si riesce a concretizzare abbiamo delle preoccupazioni siamo angosciate tutto quello che noi pensiamo di poter attuare pensiamo di poter diciamo costruire in questo momento è uscita la torre in questo momento è come se tutto cielo asfalta tutto quello che noi vorremmo realizzare tutto quello che noi vorremmo riuscire ad avere è completamente stroncato da questa situazione della nostra famiglia che ci porta all'agnentamento completo di tutto quello che sono le nostre aspettative io però che cosa vi posso dire ricordatevi che anche se una torre crolla e succede l'inevitabile e tutto quello che noi abbiamo sognato e abbiamo costruito magari in quel momento non c'è più perché viene distrutto però tutto quello che viene distrutto dà spazio a tutto il nuovo che si può ricostruire perciò io vi dico di non abbattervi e vi dico di portare pazienza di essere tenaci come dice la carta dell'oracolo e vi dico di portare pazienza perché una volta sistemato questa questione familiare che vi opprime sicuramente riuscirete a rinascere in una nuova situazione con l'esperienza che avete passato perciò molto più maturi e molto più costruttivi come dice questa carta molto più saggi e molto più sapienti e perciò sicuramente sarete anche più forti di prima e riuscirete a trovare diciamo la persona che fa al caso vostro bene anche per oggi il nostro video è giunto al termine io vi ringrazio per averlo seguito e mi raccomando se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su affinché io capisco che magari i miei argomenti vi piacciono e magari più in là posso ripetere lo stesso video ricordo che questo era un video richiesta di una ragazza che mi ha scritto per chi avesse bisogno può scrivermi all'indirizzo di posta elettronica che vede nelle info e ogni tanto in sovraimpressione io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti